Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va? Spero che state bene e che state trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio parlare con voi della Sverona, analizzando un pochino la situazione, come ben saprete, nelle ultime ore Igor Tudor ha rotto il sodalizio con i veronesi. E le parole rilasciate appunto dal tecnico all'Arena di Verona sono molto esplicative, o quantomeno sono sottilmente esplicative in merito alla situazione che sta vivendo appunto l'Arena di Verona. Prima di andare a cercare questioni, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati costantemente e in tempo reale sui contenuti che vado a pubblicare. Ma torniamo a noi. Tutto l'appunto lasciato nell'Arena di Verona per una destinazione che ha ancora tutto da chiarire, si parla di Bologna. Le parole che riporta l'Arena di Verona fanno riferimento alla non condivisione di piani tra il club e l'allenatore, o quantomeno tra l'allenatore e il club, il che dice tutto ma allo stesso tempo non dice niente. È da vedere il perché di tale dichiarazione un po' nebulosa, però da un certo punto di vista anche abbastanza diretta. Fondamentalmente, a mio avviso, dietro questa frase c'è un collegamento al mercato. Perché comunque si sa che l'Arena di Verona in quest'estate potrebbe perdere elementi molto importanti, quali Casale, quali Barak e quale Tamez. In più si parla anche di un probabile non riscatto di Simeone. Si parla di appunto che il Verona avrebbe riscattato il giocatore per poi andare a cedere nuovamente ai migliori offerenti. Comunque sui giocatori sono società soprattutto spagnole e il giocatore argentino sembra non schifare questa destinazione. Per Barak si parla di Napoli, per Casale già da tempo si parla di Lazio e per Tamez è praticamente mezza Serie A. Ci sta pensando Atalanta, ci ha pensato il Napoli ed è un po' da vedere. Sicuramente sarebbe un bel gruzzoletto per il Verona. Di contro però è una dichiarazione di intenti minore rispetto a quelli che il Verona ha avuto in questa stagione. Ricordiamo un Verona che stava lottando ancora un po' per l'Europa. E se uniamo questo indebolimento innegabile al netto degli arrivi che potrebbero arrivare a Verona però anche con l'addio di D'Amico destinato all'Atalanta sostituito da Marrocco che non ha il pedigree di Danilo, non ha il pedigree d'Amico, secondo me Tudor non ha preso bene questa cosa. Ha visto l'unione appunto di operazioni uscita di elementi molto importanti con una situazione come direttore sportivo mettendone uno di pedigree diverso facendo la somma detto ok la società non ha più le mie stesse ambizioni. Anche perché quando questi club, non di prima fascia diciamo così, non top club hanno queste stagioni positive o lavorano in modo progettuale e quindi col fine di migliorarsi costantemente ma comunque resistendo anche a certi tipi di attacchi da parte di top club per i propri giocatori o il giocatore rischia di rompersi. La soluzione sarebbe farsi scudo dietro un direttore sportivo, dietro uno staff di scouting di primo livello. Il problema appunto, come vi ho già detto, che se anche un direttore sportivo come D'Amico che comunque era legato da un profondo legame con Tudor mi va a mancare è facilmente capibile come Tudor abbia potuto recepire questo cambiamento come un downgrade e secondo me anche Setti, qualora poi non dovesse vendere il Verona e tutto il board dirigenziale stanno mirando a una camminazione dei costi o a dire ok vendi i giocatori, intrasco i soldi magari per riempenare un po' di debiti ma poi investo su altri profili. Perché comunque anche l'ingaggio di Cioffi ha fatto benissimo l'Udinese ma parliamoci chiaramente se tu prendi un Tudor con una certa esperienza e dopo mi passi un Cioffi che è esperienza di pochi mesi da primo allenatore capite bene il giocoforza che o peschi il jolly oppure c'è una grande probabilità che la stagione ottima, quella appena conclusa, sì non si vada a ripetere e ripeto è tutto il quadro cioè queste conclusioni sono arrivato non perché so una cosa o qualcuno mi ha detto ma puramente seguendo un filologico Tudor è ambizioso magari avrà chiesto anche un eventuale rinnovo a una cifra superiore al milione di euro netto che andrebbe a prendere Cioffi allora si è deciso per questo cambiamento e ora bisognerà vedere cosa farà il Verona sul mercato se effettivamente partiranno tutti questi elementi quindi Noriscato di Simeone, Barac, Casale, Tames e bisogna vedere poi chi potrebbe arrivare e non solo, anche un cancellieri è ricercato dal Bologna e ciò mi fa pensare nonostante non abbia giocato tantissimo con Tudor perché comunque ha mirato a fargli fare un altro tipo di percorso formativo ma in un eventuale modulo del 3-4-2-1 di Tudor eventualmente a Bologna un cancelliere ci starebbe bene con le sue caratteristiche e quindi attenzione attenzione cara Verona o meglio caro Hellas attenzione cara dirigenza come vi muovete perché dall'esperienza che ho avuto con i tifosi veronesi sono molto 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 esigenti e molti di loro mi hanno scritto anche sotto nei commenti che sono contro questa filosofia di Setti molti dicono non tira fuori i soldi e io sono contro le proprietà che dicono prendi i soldi me li intasco e poi le rinvesto il minimo allora che la società dica ai tifosi una strategia chiara e sincera cessione non cessione americani non americani anche di marzio però di questa possibile cessione del club insomma il futuro del Verona è tutto da scrivere e sono molto curioso e anche di sapere eventualmente dove potrebbero andare i quattro giocatori di quali vi ho parlato prima spero che il video vi sia stato utile e quantomeno che vi abbia fatto sapere capire la mia visione mi raccomando tifosi del Verona non fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate vi invito come sempre a iscrivervi al canale a lasciare un like al video e attivare la campellina vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi